ciao a tutti bentornati sul mio canale bentornati in questo nuovo video come avete visto dall'intro oggi parliamo del fox hunter pro fx 130 da non confondere col fox hunter pro fx 131 ok fratellone a lama fissa e anche del fox pro hunter 130 ce ne sono due versioni la versione più lussuosa che quella che vediamo oggi con la le guancette in legno di santos e la versione con le guancette in micarta e la lama coated cioè ricoperta in ceracotte nero bene allora eccolo qua l'oggetto del contendere lo vediamo qua perfettamente lo apriamo e voilà ed ecco il nostro hunter pro della fox 130 per la precisione questo è l fx 130 di w è purtroppo è una cosa che possiamo imputare alla fox che usa spesso una serie di codici per addirittura volte per coltelli simili ma diversi per alcune caratteristiche e rende tutto più complicato nelle identificazioni basterebbe cambiare un po il nome o aggiungere il nome una desinenza e sarebbe tutto molto più semplice ecco qua il nostro coltello e ne vediamo adesso le caratteristiche tecniche intanzi tutto è un coltellone che nasce per la caccia nasce per la caccia a una lama piuttosto spessa a una lama spessa nella parte più larga di ben 5 mm vedete che la lama è la bisellatura della lama è duplice ovviamente sopra non è affilata anche se potrebbe a questo questo falso filo anche rincasso a questa scivolatura molto carina molto elegante l'acciaio è il 690 ci ho temprato a 58 60 h rc dichiarati dalla casa vedete qua la scritta che c'è da una parte di qua andiamo se riesco a farvela vedere non sempre levarmi gli occhiali per vedere se a fuoco e hanno il fuoco sempre vedete qua c'è la scritta mentre di qua c'è il marchio della casa e anche che prodotto è costruito in italia a maniago l'apertura è con i tradizionali pin che sono ugualmente lunghi sia destra che a sinistra quindi si può aprire benissimo tranquillamente anche con la mano sinistra non solo con la mano destra essendo però un liner lock voi capite che con la sinistra poi per chiuderlo più un problema bisogna chiuderlo con la destra e invece su un coltellone così sarebbe stato bello per esempio un axis lock per poter essere utilizzato tranquillamente da sia da sinistra da mancini che da destri oppure un back lock avrebbe fatto lo stesso il suo lavoro continuiamo a vederne le caratteristiche tecniche abbiamo detto allora la lama è in acciaio n 690 c o ed è lunga ben 100 mm cioè 10 cm di lama quindi possiamo dire che non è un piccolo folder in una edici ma è un bel folder on e la lunghezza da chiuso è di 13 cm 130 mm la linghezza d'aperto è di 22 cm 220 mm e il lo spessore da chiuso cioè questo spessore qua è di 22 mm cioè due centimetri virgola 2 la bisellatura della lama abbiamo detto non ho ancora detto della vita è una sabre come potete vedere dalla forma con questo falso contro filo e dovete vedere la caratteristica come è stata fatta vedete la punta che sale verso l'alto in maniera da poter scuoiare bene anche lavorando di punta eventuale cacciagione nell'eventuale selvaggina il peso si fa sentire perché totalmente pesa 200 grammi la chiusura abbiamo visto che è una liner lock e come solito qua la fox top perché guardate lo spessore liner lock che sottile che caspettina a fare un millimetro in più di liner lock non gli costava niente certo sarebbe stato un po più duro da attivare disattivare ma sicuramente su un coltello da lavoro come questo oltre che bello da vedere avrebbe dato quel pochino di qualità strutturali in più il suo lavoro lo fa però a me piacciono i liner lock un attimino più cicciotti anche questo questa sicura estra che una volta attivata spingendola verso l'alto blocca e liner lock ne impedisce rientro quindi una doppia sicura per cui si può lavorare in estrema sicurezza ho visto gente farci del bush craft con questo coltello per cui devo dire che è un fold molto solido molto resistente le guancette in questo caso sono in legno santos invece nel caso di quello in mi carta sono appunto in mi carta verde coltello riva bene affidato di fabbrica come potete vedere un problema nel tagliare a rasoio il taglio è netto guardate anche su cordini piuttosto spessi come questo vedete che il taglio è netto da nessun problema neanche nel lavorare lini particolarmente duri come questo eucalipto ovviamente sotto le guancette abbiamo due cartelle in acciaio e che lo rende ovvia molto molto robusto è un coltello ovviamente datato di un tot di anni fa come produzione e quindi non soggetto alla moda odierna di avere quella caratteristica di avere come dire un manico senza cartelle per renderlo più leggero l'importante non era la leggerezza ma un coltello robusto che potesse essere utilizzato a tutto tondo dai cacciatori per tagliare il cibo e viscerare la preda e per trattare il cinghiale per trattare l'ungulato per trattare qualsiasi tipo di animale durante la caccia vi faccio vedere la sicura vedete che qua guardate se io muovo la sicura vedete quella farino che fuoriesce lì va a bloccare liner lock che non può rientrare e quindi può essere anche il coltello trattato utilizzato con maggior forza e sicurezza perché liner lock sicuramente non cederà perché non può rientrare alla peggio potrebbe essere che con un super abuso si pieghi liner lock ma la lama non si chiuda quindi le vostre dita sono preservate da questa sicura abbiamo sopra un gimpin vedete per il pollice in maniera da impedire lo scivolamento anche queste cartelle in legno santo sono veramente oltre che belle da vedere anche funzionali la mano fa una buona presa non si stanca facilmente e vediamo che possiamo sia appoggiare il pollice sul gimpin sia appoggiare il pollice qua in posizione avanzata qua vedete che abbiamo un allargamento del dorso che poi va a restringersi e quindi si può appoggiare pollice lavorare anche in posizione avanzata si pugna benissimo con entrambe le mani nel senso che la caratteristica di impugnabilità è eccezionale sia per destrimani che per mancini la lama a un trattamento superficiale satinato la filatura ovviamente è liscia come abbiamo detto e tipo di punta è una drop point l'impugnatura è naturale ed è di color marrone come voi potete vedere una delle cose belle ovviamente come tutti i prodotti della fox della line stile eccetera eccetera è prodotto in italia del prodotto a maniago sicuramente questo è un coltello di pregio anche il costo però si fa sentire oggi come oggi lo si trova sulle 190 euro quindi sicuramente non è regalato però avete la possibilità di avere un folder oltre che bello da vedere di pregio e con una caratteristica di robustezza che ha pochi uguali nel mondo dei folder un'altra cosa che molto bella però anche questa un piccolo effetto come abbiamo detto la fox riesce sempre a topare in qualcosa ai noi peccato perché farebbe di prodotti e il folder un bellissimo folder un cuoio che ha una bella caratteristica qual è il problema il problema è che tende nell'utilizzo a scucire tende a scucire se voi usate con vedete qua anche la possibilità di essere agganciato in cintura in maniera veloce e sbottonato in maniera veloce per essere dato fuori noi possiamo inserire il nostro folder e quindi averlo in cintura ma un'altra genialata che se non fosse perché il folder tende poi a scucirsi sarebbe veramente il top del top è che noi nell'utilizzo magari durante la cassa abbiamo bisogno di inserirlo in cintura e abbiamo questo spazio opposito per inserire il coltello in cintura come se fosse un coltello fisso e quindi pronto per essere utilizzato questa è veramente una gallata si diceva una volta una figata si dice oggi dunque è veramente una genialata come dico io e ed è un vero peccato che il fodero tenda a scucire vedete spesso e volentieri e quindi c'è da fare qualche ritocco per avere un fodero resistente peccato 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 perché parliamo del separatore all'interno del manico questo qua nero che vedete è in g10 un separatore in g10 che tira via un pochino di peso l'avessero lasciato in acciaio o un altro materiale avrebbe aggiunto peso invece così che deve un po di peso e comunque mantiene l'eleganza del prodotto alla fine è un folder che vale la pena acquistare se ci lavorate se lo utilizzate sono utilizzati in campagna se utilizzate per la caccia se volete comunque avere un bel folder da estrarre quando siete appunto caccia magari con degli amici le cose dicono ma cosa utilizzi se volete anche un folder da collezione perché è un folder veramente bello da vedere un folder veramente bello anche da tenere in vetrinetta anche se sarebbe uno spreco in quanto è un folder che nasce appunto per lavorare la versione in mi carta costa qualcosa meno adesso vi dico il prezzo che me l'ero segnato qua lo trovate circa 15 20 euro in meno quindi se questo costa sui 190 euro lo trovate sui 170 euro la versione in mi carta quindi se vi piace di più la versione in mi carta risparmiate qualcosa ma se volete veramente il top spendete 20 euro in più e avete sicuramente il meglio potete trovare per questo tipo di folder cioè il meglio tra i due sicuramente allora tanto per capirsi delle dimensioni ve lo faccio vedere il rapporto uno speed eco a uno spider con manix 2 guardate il rapporto di dimensioni che c'è quindi fatevi un'idea delle differenze diamoni anche così le differenze già questo è un bel coltello questo ovviamente un bel coltello ne che dire per questo fox fx hunter 130 è tutto ricordatevi di iscrivervi al canale quando grazie a voi tutti forza che nell'autunno inizieremo anche le dirette sui coltelli chi vorrà partecipare volentieri così potremo scambiarci le idee le pugnioni vedere studiare insieme alcuni tipi di coltelli ci sono grosse novità in arrivo mettete un bel like aiutatemi a scalare le classifiche di youtube ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti da armando ciao